Durante la guerra civile americana, un treno che trasporta l'oro dell'esercito Yankee subisce un'imboscata da parte di un gruppo di soldati confederati, guidati da un messicano francese, il capitano Pierre Cordona. Il colonnello dell'Unione Corda M. Cinali guida alcuni dei suoi uomini all'inseguimento e, mentre i confederati continuano a dividersi, M. Cinali divide le sue truppe per inseguirli. Quando si ritrova da solo nella foresta, individua Cordona ma, nel tentativo di catturarlo, viene aggredito e messo fuori combattimento dal sergente Tuscarora Phillips. I confederati lo prendono in ostaggio e gli chiedono di guidarli nella fuga attraverso il territorio dell'Unione, ma mentre si avvicinano a un accampamento dell'Unione, M. Cinali grida e scappa. La maggior parte dei confederati fugge, ma M. Cinali riesce a tirare Cordona da cavallo e a metterlo fuori combattimento. Tuscarora si nasconde sotto l'acqua e, quando i soldati dell'Unione lo superano, torna indietro per aiutare Cordona, ma M. Cinali cattura anche lui. M. Cinali vuole informazioni da loro perché è la quarta volta che l'oro dell'Unione viene rubato dai confederati e sa che stanno ottenendo informazioni da qualcuno. M. Cinali si offre di farli fuggire, ma Cordona e Tuscarora si rifiutano di dargli risposte e vengono messi in un campo per prigionieri di guerra. Dopo la fine della guerra civile, mentre Cordona e Tuscarora vengono rilasciati, M. Cinali li aspetta per salutarli e li invita a bere qualcosa. Non li ritiene responsabili degli atti che hanno commesso, li considera parte della guerra, ma vuole il traditore che forniva loro informazioni sui carichi d'oro. Uno degli ufficiali e amici di M. Cinali, il tenente Forsite, è stato ferito durante la rapina ed è morto. Dicono a M. Cinali che si trattava di due uomini, ma erano scuri e uno era un uomo grosso con i capelli scuri e l'altro era più piccolo con i capelli bianchi, ma non sanno i loro nomi. Tuscarora dice a M. Cinali che andrà a Riolobo a lavorare per il vecchio Phillips, che lo ha cresciuto. M. Cinali dice loro che può essere contattato dallo sceriffo di Blackthorn, in Texas, se hanno altre informazioni da dargli sui due traditori. Qualche tempo dopo, M. Cinali riceve un messaggio da Cordona per incontrarlo. Lo sceriffo di Blackthorn, Pat Cronin, gli dice che Cordona è in albergo ad aspettarlo. Mentre stanno parlando, arriva in città una diligenza che trasporta una donna di nome Shasta Delaney. La donna racconta a Pat che a Riolobo c'è stato un omicidio commesso da uno dei vice sceriffo della città. Pat insiste che non può fare nulla al riguardo perché è fuori dalla sua giurisdizione. M. Cinali e Pat vanno all'hotel per incontrare Cordona, che ha lasciato un messaggio per non essere disturbato, e si siedono al bar vicino a Shasta per bere qualcosa. Da Riolobo arrivano quattro agenti, tra cui un uomo dai capelli bianchi di nome Whitey Carter. Entrano nell'hotel per arrestare Shasta e riportarla a Riolobo. Lei nega la sua storia e dice a Pat che Whitey è l'uomo che ha ucciso la sua amica. Whitey dice che si è trattato di legittima difesa. Pat gli dice che non arresterà nessuno nella sua città senza un mandato. Uno degli agenti si intrufola dalla porta sul retro con un fucile puntato contro di lui. Shasta estrae una Derringer dalla borsa sotto il tavolo e spara a Whitey. M. Cinalli e Pat sparano agli altri due agenti e l'ultimo sta per sparare a M. Cinalli quando Cordona esce dalla sua stanza al piano superiore con un fucile e gli salva la vita. Cordona riconosce Whitey come uno degli uomini della guerra che ha venduto loro informazioni. Shasta inizia a sentirsi svenire dopo aver ucciso Whitey e M. Cinalli la porta nella stanza di Cordona per metterla a letto. Parla con l'autista della diligenza che conferma la storia di Whitey che ha ucciso il suo amico e la sua innocenza per l'omicidio. Cordona dice a M. Cinalli che Whitey lavorava per un ricco Yankee. Ma questo è tutto ciò che lui e Tuscarora hanno scoperto. Gli dice anche che il vecchio amico di Tuscarora, Phillips, sta avendo problemi a Rio Lobo a causa di persone che vogliono portargli via la terra. Spera che M. Cinalli lo aiuti in cambio del loro aiuto e accetta. Shasta si sveglia e si offre di andare con loro perché conosce Rio Lobo e sa con chi parlare di tutto quello che sta succedendo. I tre arrivano e si intrufolano in città a notte fonda. Vanno a trovare la ragazza di Tuscarora, Maria. Maria dice loro che possono stare da lei, ma che dovranno nascondere i loro cavalli fuori dalla vista dello sceriffo Tom Hendrix ed i suoi uomini. Cordona li nasconde, ma si accorge che alcuni agenti pattugliano le strade. Non potendo nascondersi, il rompe in casa di una donna di nome Amelita, che in quel momento è in topless. Si presentano, lei si veste e controlla l'esterno e quando è tutto a posto lui torna di corsa da Maria. Cordona pensa che dovrebbero andare da Tuscarora domattina, ma M. Cinalli non è d'accordo. Se lo sceriffo e i suoi uomini sorvegliano la città, secondo lui sorveglieranno anche il ranch. Shasta suggerisce di andare in città fingendo un dente malato per parlare con il dentista amico di Tuscarora e scoprire cosa sta succedendo, in modo che Hendrix non si insospettisca per l'arrivo di uno sconosciuto. Tuscarora arriva in città con una mandria di cavalli che lascia alla stalla e si reca all'hotel dove lavora Maria per accoglierla. M. Cinalli arriva e, tenendo la testa bassa per non farsi notare, assiste al pestaggio di Tuscarora da parte dei vice di Hendrix, che lo accusano di aver rubato i cavalli. Maria cerca di intervenire ma viene buttata a terra. Hendrix esce e dice loro di mettere Tuscarora in prigione. Maria piange e M. Cinalli le si avvicina come un estraneo per evitare sospetti e le dice di entrare. Dice a Hendrix che è in città solo per visitare il dottor Jones per il suo dente. Sapendo che Hendrix e i suoi uomini li staranno osservando dalla finestra del suo studio, il dottor Jones finge di rimuovere il dente di M. Cinalli e gli dà informazioni su ciò che sta accadendo. Gli dice che un uomo di nome Ketchum gestisce la città dopo essere arrivato alla fine della guerra. Hendrix aveva ucciso il vecchio sceriffo e Ketchum gli aveva dato il posto. Dice a M. Cinalli che probabilmente useranno Tuscarora per ricattare Phillips e fargli scappare tutte le sue scorte in modo che sia intrappolato all'interno e minacciano di impiccare Tuscarora a meno che non venda la sua terra per un quarto del suo valore. M. Cinalli racconta la situazione a Cordona e Shasta, che si recano al ranch di Phillips per cercare di aiutarlo. Mettono fuori combattimento i tre vice sceriffi che stanno cercando di tenerlo prigioniero nella sua casa, ma non riescono ad avvicinarsi alla porta per paura di essere colpiti dal vecchio. Shasta va a trovarlo e lui la tira dentro e dice a M. Cinalli e Cordona di entrare con le mani in alto. I due spiegano di essere amici di Tuscarora e di volerlo aiutare a uscire di prigione. Phillips conosce bene il ranch di Ketchum, quindi M. Cinalli suggerisce di andare a catturarlo e di usarlo per contrattare con Hendrix il rilascio di Tuscarora. Lasciano Shasta con un amico di Phillips e si introducono di notte nel ranch di Ketchum. Si occupano tranquillamente dei suoi uomini che stanno pattugliando la sua casa. M. Cinalli e Cordona guardano dalla finestra e Cordona riconosce in Ketchum il traditore che ha venduto loro informazioni durante la guerra. M. Cinalli sfonda la porta e picchia Ketchum mentre Cordona e Phillips sparano contro i suoi uomini per impedirgli di entrare. M. Cinalli picchia Ketchum finché questi non accetta di firmare tutti gli atti che ha accumulato in tutti questi anni di furti. Accetta dopo che una lampada a olio viene rovesciata e le sue gambe prendono fuoco. Lo usano come ostaggio per fuggire a cavallo. M. Cinalli si rende conto che se scambiano Ketchum con Tuscarora Hendrix e i suoi uomini li inseguiranno, li cattureranno e li uccideranno. Invece di scambiarlo, M. Cinalli pensa che dovrebbero ordinare a Hendrix e ai suoi uomini di lasciare la prigione per unirsi a Tuscarora e resistere mentre Cordona va a prendere la cavalleria. Un vice sceriffo arriva alla prigione per dire a Hendrix cosa è successo al ranch di Phillips. Hendrix dice ai suoi uomini di sorvegliare la strada principale ed impedire a chiunque di entrare o uscire. È felice di avere Ketchum, ma Melita è stata attaccata da Hendrix. La donna mostra a M. Cinalli la cicatrice che ha sul lato del viso a causa del taglio che lui le ha inferto per convincerla a dire ciò che sa. Dice che lo ucciderà, ma M. Cinalli dice che lo farà lui per primo. Lui e Phillips portano Ketchum alla prigione e dicono a Hendrix che lo uccideranno se lui e i suoi uomini non si disarmano e non lasciano l'ufficio. Si chiudono nell'ufficio e fanno uscire Tuscarora dalla cella. Si siedono e aspettano la cavalleria. Ma il piano va storto quando Cordona cade in un'imboscata e viene preso in ostaggio dai deputati che sorvegliano la strada prima che possa portare i rinforzi. Doc Jones porta del cibo a M. Cinalli e agli altri in ufficio. Un agente consegna un messaggio in cui dice loro che hanno Cordona e che vogliono scambiarlo con Ketchum. Non avendo altra scelta, M. Cinalli accetta. Dà a Doc Jones gli atti che Ketchum ha firmato e gli dice che qualunque cosa accada la gente riavrà la sua terra. Il mattino seguente, M. Cinalli, Phillips e Tuscarora accompagnano Ketchum al punto di scambio stabilito. Incontrano Doc Jones in una cantina con alcuni abitanti della città che si offrono di aiutarli. Se Hendrix vincerà questa battaglia, sanno che la loro terra verrà nuovamente sottratta. Alcuni di loro si nascondono armati per la città, mentre Tuscarora si nasconde nell'acqua che si trova tra la cantina e il granaio dove Hendrix e i suoi uomini tengono Cordona. M. Cinalli grida a Hendrix di liberarlo in cambio di Ketchum. Ketchum e Cordona iniziano a camminare l'uno verso l'altro e Tuscarora fa un segnale a Cordona dal torrente e Cordona salta in acqua. M. Cinalli ordina a Ketchum di non andare oltre o gli sparerà. Hendrix lo rivuole indietro ma M. Cinalli gli dice che non gli serve a nulla perché gli atti sono stati consegnati al popolo e sono entrambi al verde. Hendrix è pieno di rabbia e spara a Ketchum. M. Cinalli spara a Hendrix alla gamba e viene a sua volta colpito alla gamba da uno dei deputati. Ha luogo una sparatoria. Non passa molto tempo prima che gli uomini di Hendrix siano in inferiorità numerica. Dopo un tentativo fallito di far saltare in aria la cantina con la dinamite, gli uomini rimasti decidono di scappare da Hendrix. Hendrix cerca di impedire loro di andarsene sparando. Ma dopo aver usato il suo fucile come bastone per zoppicare, con la canna rivolta verso il basso, il fucile si intasa di fango e quando spara gli esplode in faccia. Zoppica verso il suo cavallo, ma alle sue spalle appare Amelia, armata di fucile. Lui cerca di girarsi per spararle, ma non è abbastanza veloce e lei lo uccide con due colpi. Tuscarora si riunisce a Marie e cordona a Shasta. M. Cinalli conforta Amelita e si allontana con lei, mentre Riolobo è ormai libero dalla corruzione. Amelita e si anche ormai libero dalla corruzione. Amelita e si ottobana con lei, están broad dic邊 legitimate.